Ciao a tutti amici! Benvenuti in questo nuovo video! In questo video voglio dirvi le frasi ed espressioni più utili per chiedere informazioni in Italia! Un viaggio in Italia è sicuramente un sogno di molti turisti stranieri! Beh, come biasimarli? L'Italia, infatti, è la meta perfetta per chi ama l'arte, per chi ama la cultura, il cibo, il mare, la montagna... Ma spesso gli stranieri si scontrano con le difficoltà della lingua ed è utile perciò conoscere alcune frasi che vi possono aiutare in caso di necessità, ad esempio, se dovete chiedere informazioni! Quindi, se ti interessa questo argomento oppure se hai pianificato un viaggio in Italia, guarda il video fino alla fine! Io sono Giulia e se sei nuovo su Piazza Square, iscriviti ora per non perdere nessun video sull'italiano e sull'Italia! Molto probabilmente, se dovete fare un viaggio in Italia, la prima tappa è l'aeroporto! Sicuramente il personale di tutti gli aeroporti italiani conosce bene l'inglese e anche altre lingue! Ma può sempre essere utile imparare le frasi principali in caso di necessità! Se volete chiedere a qualcuno l'ora in cui è possibile salire sull'aereo, potete chiedere A che ora è il mio imbarco? Il tuo imbarco è alle 4 e un quarto! Se volete sapere dove andare per fare il check in, potete chiedere Dov'è il check in per il volo per Roma? Se invece volete sapere se il vostro aereo è puntuale o meno, potete chiedere Il volo è puntuale? Oppure il volo è in ritardo? Sì, il tuo volo è in ritardo di 30 minuti! Ma attenzione! Se il vostro volo è stato cancellato, beh, avrete bisogno di chiedere informazioni! Quello che potete dire è Il mio volo è stato cancellato! Che cosa posso fare? Oppure qual è il prossimo volo disponibile? Benissimo! Ora siete arrivati finalmente a destinazione e dovete prendere un taxi dall'aeroporto al vostro hotel Quindi, se siete appena atterrati e vi sentite un po' spaesati, potete chiedere Dove posso prendere un taxi? Ora che siete saliti sul vostro taxi, avete bisogno di riferire l'indirizzo di destinazione Quindi, potete dire Devo andare all'hotel XY Quanto costa fino a lì? In questo modo avrete chiesto anche il prezzo E prima di scendere dal vostro taxi, potete dire Grazie mille, va bene qui Quanto le devo? Che significa quanti soldi le devo dare in modo formale Ma non dimenticatevi! Uno dei motivi principali per cui siete arrivati qui in Italia è sicuramente il cibo Quindi, subito una tappa al ristorante Dopo aver fatto varie ricerche su internet e aver trovato il ristorante che più vi piace Volete assicurarvi di avere un tavolo e quindi fare una prenotazione Di conseguenza, chiamerete il ristorante e potrete dire Buongiorno, è possibile prenotare un tavolo per quattro questa sera alle otto? In questo modo avete chiesto la disponibilità Una domanda che vi potrà essere chiesta è Certo, a che nome? E quindi direte il vostro nome A nome Giulia Grazie, ci vediamo dopo E così la vostra prenotazione è fatta Arrivati al ristorante volete sapere quali sono i piatti forti del menù E quindi potrete chiedere Quali sono le specialità della casa? In questo modo chiederete al cameriere un consiglio sulle specialità locali Dopo aver finito questa deliziosa cena dovrete pagare E quindi chiederete Mi scusi cameriere, potrei avere il conto per favore? Se avete bisogno di fare un po' di compere, quindi un po' di shopping Ci sono alcune frasi che possono tornarvi utili Ad esempio Mi scusi, quanto costa? Quindi chiedete informazioni sul prezzo Se ad esempio non c'è l'etichetta Se non avete contanti potete chiedere Potrei pagare con la carta di credito? Oppure è possibile pagare con la carta? Beh, e cosa fare a Roma se non visitare i musei? Quello che potrete chiedere a un locale è Mi scusi, come posso arrivare al museo? E in questo modo vi dirà le indicazioni stradali Una volta arrivati al museo chiederete Dove si comprano i biglietti? L'ultima frase molto importante ovunque voi vi troviate nella città è Mi scusi, mi sono perso, potrebbe dirmi dove sono? Oppure se volete chiedere indicazioni verso un monumento principale Potete chiedere Da che parte devo andare per il castello? Bene ragazzi, queste erano solo alcune delle frasi che potete usare quando fate un viaggio in Italia Ovviamente ce ne sono molte altre se volete approfondire la vostra conversazione in italiano E quindi di conseguenza migliorare il vostro italiano Fatemi sapere se siete mai stati in Italia e dove? Nei commenti qui sotto Ricordatevi anche che potete seguirci sulla nostra pagina Instagram Dove pubblichiamo ogni giorno un sacco di contenuti per il vostro studio giornaliero E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao!